Benissimo, Stefano è stato esaudiente e vi ha spiegato benissimo chi sono e cosa faccio. Possiamo restare in contatto anche dopo questa presentazione, mi trovate un po' ovunque sul web con lo pseudonimo di Frank Grasso, LinkedIn e social vari, come preferite. Come vi diceva, sono uno sviluppatore di un'azienda che si chiama Eat, difficilissima da pronunciare anche per noi, tranquilli, non siete voi che non sapete pronunciarla, nemmeno noi sappiamo farlo. Questa azienda è nata creando temi, poi si è evoluta creando plugin e con l'avvento dei temi a blocchi stiamo riprendendo a creare temi per WordPress e io mi occupo di questo aspetto. dell'azienda in mezzo a mille altre cose, infatti sono un DevOps dell'azienda, quindi ho un po' una visione totale di quello che c'è ovunque sui nostri sistemi. Curo il WordPress Meetup a Catania che attualmente è in pausa perché per esigenze personali, eccetera, gli organizzatori abbiamo fatto un attimino un passo indietro, ma stiamo lavorando dietro le quinte per riportarlo ai fasti dei bei tempi e nel 2019, come diceva Stefano, c'è stato il bellissimo Workcamp Catania, un evento che è rimasto nel cuore di tutti i partecipanti. Benissimo, veniamo all'argomento di oggi abbastanza spinoso e esoterico per molti, questo file in JSON. Molti dicono che sarà mai questo file JSON, a cosa servono i file JSON. Ecco, se non sapete esattamente cose sono, ma ne capite un minimo, non bisogna essere dei grandi esperti, dei guru della programmazione, se capite un attimino qual è il concetto di array, possiamo definire il file JSON come un file di configurazione che è un grande array contenente altri array al suo interno. Questo file è uno dei file requisiti dei nuovi temi a blocchi, perché sappiamo tutti che nei temi classici i file necessari per rendere un tema ciò che è, sono i file index.php e il file style CSS. Adesso, nei temi a blocchi, si aggiunge questo file che è il file team.json. Lo ripeto da una vita, il fatto che il functions.php sia necessario è una leggenda metropolitana, non è vero che è necessario all'esistenza di un tema, semplicemente quello è un file che vi serve per aggiungere funzionalità al vostro tema. Ma esattamente come per i temi classici non era necessario, non è necessario anche in questo caso. E credetemi, oggi più che mai con i temi a blocchi non è necessario, perché cose che prima riuscivate a fare solamente tramite configurazioni in PHP o scrivendo decine se non centinaia di codici CSS per stilizzare aspetti vari del vostro tema, ad oggi tutte queste cose le potete convertire in pochissime stringhe, pochissime righe del file team.json. Qualcuno ieri era al Contributor Day? Parecchi. Chi era al tavolo dei temi? Vabbè, io ho portato qua allora. Ieri è stata una giornata interessantissima perché abbiamo realizzato dei temi a blocchi e abbiamo un attimino visto come sono strutturati questi temi e quante cose si possono fare grazie a questo singolo file. Abbiamo visto come aggiungere funzionalità, come abilitarle e oggi vedremo anche come disabilitarle. Questa è la sintassi standard, ovviamente compressa, se vedete lì ci sono delle parentesi graffe aperte e chiuse con, questo non è un operatore di programmazione ma sono semplicemente dei tre punti per indicarvi. Qua dentro ci sta roba, non creiamo scompiglio. Ci sono quattro macro, allora prima abbiamo, prima di arrivare le quattro macro area, abbiamo delle keyword essenziali. Il primo che dichiara lo schema di questo file, il secondo indica la versione. Queste informazioni vi serviranno, servono non solo a WordPress per leggere questo file, ma servono anche al vostro editor. Se utilizzando un editor evoluto che può essere anche VS Code gratuito per tutti, in base a queste semplici due informazioni, lui capirà cosa deve fare, cosa deve proporvi mentre iniziate a scrivere questo file da zero. Non bisogna avere tutto stampato in testa. Sotto la sezione settings cosa posso scrivere? Devo ricordarmi qual è la sintassi esatta delle parole chiave per indicare i colori sotto styles eccetera. No, grazie a queste due dichiarazioni il vostro editor sarà in grado, chiaramente parliamo di un editor minimamente evoluto, non parliamo del notepad, è chiaro per tutti, lui già vi proporrà, vi suggerirà le uniche keyword, le uniche istruzioni che potete inserire in ciascuno di questi blocchi. I blocchi essenziali, le quattro macro aree del file team json sono settings, styles, custom templates, templates part, settings appunto impostazioni, styles, definizione di stili e modifiche di stile, custom templates, un tema a blocchi, è caratterizzato dalla presenza di file html, sì siamo tornati all'html, si torna alle basi per andare, si torna indietro per andare avanti. Cosa vi permette di fare? Non so se qualcuno di voi ha mai avuto a che fare con un tema classico, ci sono i file di template per le varie pagine, c'è il file per la front page, c'è il file home php per il blog, c'è il file single php per il single post del blog, c'è il file 404.php eccetera. La stessa cosa uno a uno la possiamo mappare nei temi a blocchi con dei file html. Qual è la principale differenza di questi file? È che mentre nei file php voi dovevate occuparvi di scrivere i loop. Sapete cos'è il loop? Il sistema che vi permette di ciclare e recuperare i post, quindi i contenuti, le informazioni all'interno del vostro database WordPress, con tutte le conseguenze dei possibili errori che uno passa scrivendo il loop, perché magari mettete un parametro sbagliato. Adesso ci sono, in automatico questi vengono recuperati all'interno di questi file html o al massimo potete utilizzare dei blocchi che si occupano di fare il loop già per voi. Questi blocchi possono ricevere qualche personalizzazione, qualche parametro in ingresso, ma in generale sono già studiati per essere il loop delle pagine, il loop dei post eccetera. La vita si è naturalmente semplificata per chi deve realizzare un tema. C'è chi dice che è peggio, c'è chi dice che è meglio, c'è chi dice che i temi a blocchi sono più complessi dei temi classici. L'esempio che facevamo ieri al Contributor Day è questo. Qualcosa può essere difficile, complesso, ostico, solo a chi è già stato abituato per anni e anni a usare altro in un'altra maniera. Immaginate quando siamo passati tutti nei sistemi Windows dal vecchio XP, poi Vista, poi 7, ancora ci piaceva, è piaciuto a tutti, poi è stato introdotto il sistema delle tiles su Windows 8. Tutti, è che schifo, è inutilizzabile, dove sono i miei pannelli impostazioni eccetera. Ma se ci pensate un attimo per un nuovo adopter di quel sistema, per un ragazzino che per la prima volta sta aprendo il computer e lo sta utilizzando, quel sistema era mille volte più intuitivo. La stessa cosa adesso avviene, ne parlavamo stamattina con alcuni dei volontari su questi temi a blocchi. Prendete una persona che non ne capisce un hack di come funziona WordPress e chiedetegli di gestire i menu di un tema classico. Dovete andare a spiegare a quella persona che deve andare nel back-end, deve andare in aspetto, deve andare in menu, deve capire se il programmatore è stato abbastanza gentile per utilizzare la keyword giusta, a cosa corrisponde quella menu location. Deve capire che primary menu probabilmente è il menu che ci sta nell'header del sito. Ma se il programmatore è simpatico, il primary menu può essere quello nel footer. Simpatico tra apici grossi quanto una casa chiaramente. Adesso col full site editing le persone fanno edit site, si apre la nuova interfaccia che, ripeto, un utilizzatore di quelli, lo zoccolo duro, dei temi classici, trova osta, appena la vede fa che è sta roba? Inutilizzabile. Ma arriva una persona nuova, ma guarda là c'è il menu, clicca, si è aperta l'opzione del blocco e vede le voci di menu, le sposta, le modifica, fa salva e automaticamente si è sistemato ed era il menu nella posizione che lui cercava. Cioè se ci fermiamo un attimino a ragionare su questo pensiamo che forse qualche passo avanti è stato fatto, non sarà tutto perfetto, non è ancora la sua forma definitiva, ma per un buon 75-80% adesso è più che utilizzabile in produzione. Ci sono delle imperfezioni nel fare il revert ai settings standard, che sono quelli che si scrivono nel file team json, ma con pazienza, un pizzico di pazienza, arriveremo presto alla sua forma definitiva e totalmente funzionante. Ripeto, per una persona nuova che lo utilizza per la prima volta, molto più intuitivo questo. Siamo noi che continuiamo a pensare alla vecchia maniera. Il file team json in realtà non è l'unico file che viene preso in considerazione da WordPress per leggere le impostazioni che riguardano colori, stili, custom template, che sono quei template di cui parlavamo prima, 404, index, o le template parts. Template parts, lo dico perché prima ho dimenticato di dirlo, sono le sezioni del vostro sito. Header, footer, se c'è un eventuale sidebar, anche se ormai con full set editing e l'editor a blocchi ha poco senso parlare di sidebar. In quest'esipagina mettete un blocco, due colonne, di cui una a 75%, l'altra a 25% e avete la vostra sidebar. Non dovete impazzire a impostare il template con sidebar a destra, sidebar a sinistra. Switchate le sidebar in un click, è un attimo. Le template parts quindi definiscono questi layout, header, footer, eccetera, e ne possono esistere molteplici e quando andate a fare edit site potete fare il replace dell'header con un altro header o potete impostarne una per un template piuttosto che per un'altra, eccetera. Comunque, tornando a noi, in realtà il file team json non è l'unica configurazione che viene elettata a WordPress. Cosa vuol dire? Su quel file team json io potrei scrivere solo i colori, potrei definire solamente la palette colori. La palette colori sono, quando andate a cliccare ad esempio sul paragrafo e vi propone di cambiare il colore del testo, vi vengono proposti dei colori standard e poi ci sono, qualora nel file team json sono definiti, sono degli altri colori sotto la voce tema. Questo vuol dire che il tema sta aggiungendo questi colori, ok? Queste servono per chi sta lavorando al sito ad avere una coerenza grafica cromatica all'interno dei contenuti del proprio sito. Sa che io i paragrafi li posso fare verdi e blu, il rosso non devo utilizzarlo perché magari è un altro elemento chiave del logo o non sta bene con la mia palette colori, eccetera. Quindi il tema non è obbligato a definire tutto. Perché? Perché WordPress ha già un file team json di configurazione che viene caricato in automatico, poi i singoli blocchi possono contenere al loro interno un file json di configurazione, immaginate un plugin che va a creare dei blocchi aggiuntivi per il vostro tema. Perché dobbiamo pensare anche un'altra cosa. Esattamente come per i temi classici un tema non doveva occuparsi di definire shortcode, custom post type e quant'altro. Alla stessa maniera un tema per essere tale, per essere accettato nelle repository o comunque per rispettare determinati canoni, non deve definire, non sono quelle cose, ma nemmeno i blocchi. Perché un tema deve solo vestire il sito. Deve essere un aiuto per caricare e rappresentare contenuti. Non deve definire la struttura dei contenuti. Cioè se noi stiamo realizzando il sito web per una biblioteca, il post type dei libri non deve essere definito nel tema, ma deve essere definito in un plugin. Perché se un giorno la biblioteca decide di fare un investimento e cambiare la grafica, rinnovarsi e deve cambiare tema, se cambia tema perde tutto. Mentre i libri deve continuare a vederli. Magari non si vedranno con la stessa bellezza estetica di prima, ma si potrà lavorare e i contenuti non saranno mai persi. Quindi anche i blocchi possono definire un file team JSON personale. Quel file gli serve per la configurazione, per istruire il site editor a determinate impostazioni. Perché quel blocco ha necessità di una palette colori dedicata, ha necessità di abilitare o meno la presenza di maiuscole e minuscole, di definire delle font size particolari, di avere uno spacing dinamico e quant'altro. Poi c'è il file team JSON del tema, che è quello di cui abbiamo discusso prima, è il classico file. E poi ci sono le impostazioni dell'utente. Cioè, quando andate ad aprire Edit Site, modifica sito, credo che si chiami in italiano, scusate, ma lo uso principalmente in inglese, quando andate a cambiare qualsiasi impostazione lì da Edit Site, lì state creando delle impostazioni a livello utente. Questo non deve farvi confondere, perché non vuol dire che se io Mario, se io Francesco, ho modificato un'impostazione, ma poi visita il sito, il signor Giuseppe, e trova il sito con un'altra impostazione, per semplicemente perché Mario e Francesco l'hanno editato. No, sono delle impostazioni a livello utente. Quindi sono quattro livelli diversi, quattro layer. Per ciascuno di questi layer, quindi, vengono definite delle impostazioni. Il sistema standard di WordPress è sempre stato basato, nei temi classici, ma comunque nel suo funzionamento più base, sulla presenza di Action Hooks e Filter Hooks, i famosi ganci. Cos'è un Filter Hooks? È qualcosa che vi dice, c'è un determinato comportamento standard, io mi aggancio a questo comportamento e lo modifico secondo le mie esigenze, prendendo in pasto il vecchio comportamento, lo rielaboro e te lo restituisco, lo filtro in un'altra maniera. Mentre gli Action Hooks sono semplicemente dei punti di riferimento, quando arrivi a questo punto della procedura, qua puoi fare qualcos'altro. Oppure, quando arrivi a questa procedura, qua puoi rimuovere qualcosa. Ecco, tramite i filtri possiamo modificare il comportamento di qualcosa, che prima aveva un comportamento standard. Filtrare è per noi sinonimo di modificare e di sovrascrivere qualcosa, aggiungere o addirittura sovrascrivere qualcosa. Per ciascuno dei livelli di impostazioni date dal Team JSON o configurazione utente, esiste un filtro corrispondente. Andiamo un attimino a vedere quali sono. E allora, il Filter Hooks ha una radice comune. WP Team JSON e poi Data Default, come vi dice la parola stessa, questo va a filtrare le impostazioni di default di WordPress. WP Team JSON Data Blocks, questo va a filtrare le impostazioni che sono state introdotte dal blocco, qualora il blocco abbia un file JSON di configurazione. Poi abbiamo WP Team JSON Data Team, questo va a sovrascrivere le impostazioni che sono state introdotte dal tema tramite file Team JSON e poi per ultimo WP Team JSON Data User, questo va a sovrascrivere le impostazioni che sono state assegnate dall'utente. Dovete capire che qui c'è anche un sistema di priorità in tutto questo. Perché? Vanno a cascata. Quello che definisce WordPress può essere sovrascritto dal blocco. Quello che definisce il blocco può essere sovrascritto dal tema. Se addirittura l'utente ha applicato delle modifiche tramite Site Editor, le modifiche dell'utente sono legge. Sono quelle e basta. Vanno a sovrascrivere tutto quello che ci sta sopra. Quindi, priority is king. Se io voglio andare a modificare un comportamento standard di WordPress, vado ad utilizzare uno qualsiasi di questi blocchi e mi va benissimo. Ma se voglio vincere sul tema, io devo andare a sovrascrivere qualcosa tramite questo filterux. Se voglio che l'utente non possa fare determinate modifiche, io mi metto qui. Mi metto a JSON data user. E qui non ci sono scuse. Qui l'utente può fare quello che vuole. Ma vinco io. Vi faccio adesso un esempio praticissimo. Scusate, questa è una slide spiritosa che si dice sempre, ogni anno viene detto, il PHP è morto. È ogni anno questa cosa. Quando sono stati introdotti i temi a blocchi. Adesso tu ti troverai a scrivere HTML e CSS e basta. E poi se sei bravo, bravo, scrivi JavaScript e React. Basta, non lo tocchi più il PHP. Signori miei, questi qui sono filtri, abbiamo detto. I filtri come si fanno in WordPress? Si fanno con il PHP. E così il PHP ne gioisce alla grande. Dici, io non sono morto, ogni anno voi mi ammazzate. Io torno sempre in vita, alla Terminator. Vi faccio adesso un esempio che vi fa capire l'utilità di tutto questo e le sue infinite potenzialità. È una domanda che mi è stata fatta ieri da tutti al tavolo. Io ho configurato questo tema, l'ho creato. È bellissimo, il full-site editing però è troppo. Io ho confezionato il sito al massimo, l'ho dato al mio cliente, si è messo a smanettare, ha distrutto la struttura dei post. Mi ha distrutto tutto. Adesso mi ha fatto i paragrafi enormi, alcuni piccolissimi, eccetera. Perfetto. Adesso lo sistemiamo noi, l'utente, in base alle sue capabilities. Proviamo adesso di evitare che l'utente possa cambiare i colori per tutti gli utenti che hanno un ruolo in finire la cura degli admini, quindi gli editor. Devono solo scrivere senza cambiare i colori, in questo esempio. Qual è il filtro che ci serve? Data user. Perché non vogliamo che sia l'utente. Noi dobbiamo sovrascrivere proprio il comportamento dell'utente. Il codice è facilissimo. Il filtro da utilizzare è questo. Add filter, team.json.data.user. A questo agganciamo la nostra funzioncina. Tutto questo chiaramente va fatto dopo che il tema è stato caricato e sta funzionando. Ma questo non è oggetto del talk, perché questo è il comportamento standard di quando uno deve fare filtri sul tema e quant'altro. Quindi ci agganciamo qui e diciamo all'utente che deve avvenire quello che c'è dentro questa funzione. Cosa gli diciamo? Se l'utente non può editare il team option, e questa è una delle capabilities che ha l'utente amministratore, poteva anche essere not current user can administrator, stessa cosa, ci va benissimo, però questa è una capabilities molto specifica, che può essere stata modificata con vari plug-in che vanno a rimuovere e aggiungere capabilities agli utenti. Noi gli diciamo, io adesso qua, dentro questa variabile, restrictions, ma si poteva chiamare pippo, bluto, paperino, per noi va benissimo, ti vado a definire un array. Il team json, di cosa è? Detto alla spicciola, un array di array. Gli passo. Ok, io sto scrivendo nella versione 2 del file team json di WordPress. La versione 1 è stata utilizzata agli albori, già siamo alla 2, quindi. Però per sicurezza noi gli passiamo questo. Poi gli diciamo, vai nella sezione settings del file team json, individuati il blocco color con questa informazione chiave e qua dentro io posso definire varie proprietà che ci vengono date in aiuto dalla definizione di schema e di version. Io ti dico, il colore del testo non lo devi poter impostare. I colori di background non li devi poter impostare. I colori dei link non li devi poter impostare. L'utente i colori non li deve toccare. Prendo questa variabile e con update with, che è una funzione di team json, che è sostanzialmente il file che diamo in pasto al nostro filtro, perché abbiamo detto prendo qualcosa, la rielaboro, la rimastico e te la ritorno indietro. Update with, prendi questo file team json, aggiornalo con queste restrizioni. E poi alla fine, come tutti i filtri, io devo restituirti quella cosa elaborata, rimasticata, modificata. La diamo in pasto e vediamo cosa è successo. Questa è la condizione standard che abbiamo nel nostro editor, in particolare qui stiamo provando a modificare il colore del testo di questo paragrafo. Appena clicco per scrivere mi si abilita color e ci sono text e background. Quando c'è il divieto d'accesso, attenzione, non vuol dire vietato, vuol dire sto utilizzando qualcosa di default. Qui Stefano si dovrebbe parlare un attimino che non è troppo indicativo che questo vuol dire sto utilizzando i colori di default, quel divieto lì. Vedete che ci sono attive le opzioni dei colori. Adesso applico il mio filtro, ho scritto quella porzioncina di codice nel function su .php che è tornato in vita, eccetera, del mio child team. E adesso la persona ha cliccato sul paragrafo e non c'è più color. C'è la possibilità di gestire bordi, dimensioni, quant'altro sia stato abilitato nel file team json, ma colors non c'è più. E quindi, ciao ciao errori. Cioè, proprio l'utente deve essere, passatemi il termine, vabbè non lo posso dire, e andare in modalità codice e andasse a scrivere lui l'HTML. Però io non gliel'ho data l'impostazione per farlo. Questo ci permette quindi di personalizzare, base alle esigenze del nostro cliente, rendere sicuro un prodotto che noi abbiamo rilasciato per i nostri clienti per evitare l'errore umano. Quindi realizzare una soluzione ad hoc, unica e personalizzata per quell'utente. Se pensate, le modifiche che potete fare sono infinite, non potete solo togliere, potete anche aggiungere. Qua abbiamo fatto un esempio di sicurezza, ma ci sono mille altre cose che possono essere fatte. Non solo gestire il colore, ma tipografia, opzioni di blocco, la possibilità di rimuovere le colonne, volete che siano solo a larghezza automatica, quindi gli elevate la possibilità di mettere la percentuale. Potete fare di tutto. E con questo io vi saluto perché il tempo è rimasto. L'esempio che vi ho fatto è un esempio disponibile su wordpress.org alla sezione developer. È un esempio standard, classico, volutamente ho messo quello in modo che potete andarvi a revisionare il codice cento volte meglio riguardo a una slide perché potete banalmente copiarlo e incollarlo. E poi vi invito a visitare questo bellissimo sito, fullsetediting.com, di Carolina Neymar. Spettacolare sito per imparare i temi a blocchi, mille volte meglio di qualsiasi codex, documentazione che vogliate. Questo deve essere la vostra Bibbia. E basta, io ho finito. Grazie mille Francesco. Un applauso ancora.